Benvenuti nel nostro ultimo video sul canale Prezzo e Recensioni, dove oggi vi guideremo attraverso una selezione curata dei migliori materassi disponibili sul mercato, progettati per migliorare notevolmente la qualità del vostro sonno. Da opzioni ibride a materassi in memory foam, abbiamo raccolto prodotti che si distinguono per comfort, supporto e tecnologia innovativa, per aiutarvi a trovare il compagno di sonno perfetto. Rimani con noi fino alla fine per scoprire quale materasso potrebbe essere il tuo prossimo acquisto ideale. 1. Partiamo con il Lucid Materasso Ibrido di 30,5 cm, una combinazione unica di memory foam, lattice reattivo e bobine d'acciaio, offrendo un tocco medio per un riposo ottimale, disponibile nella dimensione King. 2. Il Classic Brand Skool Gel, un materasso ventilato in memory foam di 30,5 cm, promette di mantenerti fresco tutta la notte, certificato certi pur stati uniti e disponibile nella dimensione Queen. 3. Il Slipmax Materasso King Size di 30,5 cm, un ibrido che fonde memory foam e molle insacchettate, progettato per offrire un isolamento superiore e realizzato negli Stati Uniti. 4. Per chi cerca un'opzione più ecologica, il materasso in memory foam da 8 pollici con rivestimento in bambù e traspirante è certificato certi pur stati uniti, garantendo un sonno fresco e ristoratore nella dimensione Queen. 5. Il Serenity è un materasso Queen Memory Foam da 14 pollici, un materasso traspirante che utilizza memory foam in gel rinfrescante per alleviare la pressione e garantire un supporto ottimale. 6. Esplora il Crystali Materasso W4FT6 di 25 cm, un materasso ibrido a molle, che combina comfort e supporto in un design pratico e conveniente. 7. Il Yatch House Materasso Corto Queen da 25,4 cm offre una soluzione ibrida con molle insacchettate e memory foam, ideale per chi cerca un equilibrio tra comfort e supporto. 8. Per un'opzione versatile, il materasso ibrido da 20 cm Queen Size offre un medium solido e materassi a molle insacchettate, garantendo un supporto del bordo superiore. 9. Il Lucid Materasso Full Hybrid da 12 pollici combina memory foam infuso e aloe vera, con molle che isolano il movimento, certificato CertiPur Stati Uniti. 10. Il Sun Rising Bedding Materasso in Memory Foam da 20,3 cm, stabile e privo di sostanze chimiche nocive, adatto a tutti i tipi di telaio del letto. 11. L'Oli Sleep Materasso Ibrido in Memory Foam da 13 pollici, verde e certificato CertiPur Stati Uniti, offre un'esperienza di sonno rinfrescante e confortevole nella dimensione Queen. 12. Il Sleep Innovations Hudson Twin Materasso Ibrido da 12 pollici, progettato per alleviare la pressione e garantire un supporto medio solido. 13. Esplora il comfort del Sleep Innovations Skyler Materasso rinfrescante in Memory Foam da 30,5 cm, che offre un supporto morbido e peluche. 14. Il Kulvi Materasso Queen Size, con molle insacchettate individuali e Memory Foam, promette un sonno più fresco e un sollievo efficace dalla pressione. 15. Il KK TR Car Materasso in Memory Foam per modello 3, una soluzione portatile e autogonfiabile, ideale per il campeggio e compatibile con Tesla Model 3. 16. Il Nectar Materasso W365 cm, una scelta medio-solida in Memory Foam in gel, offre una prova notturna per testare il suo comfort e supporto. 17. Il Serenity è un materasso Queen Memory Foam da 10 pollici, ideale per chi cerca un materasso traspirante e rinfrescante in una scatola. 18. Il Classic Brands VB Materasso in Memory Foam gel da 12 pollic. i, un'opzione che promette sonno indisturbato e confortevole nella dimensione Queen. 19. Il Materasso Queen Colby da 25,5 cm, un ibrido che offre freschezza e supporto per una notte di sonno riposante. 20. E infine, il Classic Brands Cool Gel Materasso Trapuntato in Memory Foam da 35,6 cm, per chi cerca il massimo del comfort e del lusso. Grazie per aver seguito la nostra panoramica sui migliori materassi del momento. Ricorda, un buon sono inizia da un buon materasso. Per maggiori dettagli su ciascuno di questi prodotti, controlla i link nella descrizione. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutte le ultime recensioni e consigli di acquisto. Dormi bene e sogni d'oro!